Massimiliano Varese ha sorpreso durante la sua apparizione a Verissimo parlando della sua ex Valentina Melis e del possibile ritorno al Grande Fratello. Nell'episodio del 31 marzo 2024, Silvia Toffanina ha accolto i protagonisti della finale del Grande Fratello nella sala televisiva di Canale 5, commentando le loro esperienze nel mondo dello spettacolo. Tra di loro c'era anche Massimiliano Varese, che ha condiviso con il conduttore televisivo il suo percorso di ripresa dopo l'uscita dal reality. Varese ha confessato che è stato difficile per lui riprendersi e che ancora si sente un po' fuori posto. Ha parlato del suo viaggio nel reality come di una delle esperienze più significative della sua vita, sottolineando l'impatto della lontananza dalla figlia mia come la sfida più grande. Riguardo alla sua ex compagna Valentina Melis, ha espresso la speranza di poter ricostruire il loro rapporto, ammettendo di aver compreso che il dolore può distorcere la percezione delle cose positive. Ha condiviso le sue speranze per il futuro, sottolineando l'importanza di guardarsi negli occhi e di trovare una strada insieme. Varese ha riflettuto sul fatto che anche se potrebbero non essere più una coppia, saranno sempre genitori per la figlia, sottolineando l'importanza di connettersi profondamente con l'altro per superare le difficoltà. Quanto alla sua esperienza nel grande fratello, Varese si è detto libero di esprimersi e ha dichiarato che lo rifarebbe sempre, magari in futuro.